Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Villa Dossola, guardate qua che spettacolo, guardate, guardate, e guardate che sta lavorando il titolare, alla falsoi servizi succede anche questo, guardate, 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 perché i dipendenti filmano mentre il titolare lavora. Hai visto? Cose da pazzi, solo noi riusciamo a far lavorare il titolare. Grazie a tutti.